Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 5 luglio, si tratta di un venerdì. Vediamo subito quali sono i temi della giornata. Innanzitutto la visita di Putin a Roma. La visita di Putin è una visita molto importante secondo alcuni giornali e secondo altri ci sono dei lati altrettanto divertenti di questa visita di Roma. Partiamo dai lati più divertenti, cioè dall'interna capacità, soprattutto dei romani, di mettere a posto le cose soltanto quelle. Si dice alla romanella, sapete che vuol dire alla romanella? Quando si mette qualcosa a posto così, a cavolo, soltanto per qualche secondo, per far andare bene, per far vedere che le cose funzionano. Cioè il detto tipico di Roma è mettiamo a posto le cose alla romanella. Quello che hanno fatto sulla monnezza ieri, la incapace giunta Raggi, che è sempre più imbarazzante, che nel percorso presidenziale di Putin tra l'aeroporto e le diverse visite che ha dovuto fare, insomma ha tolto i rifiuti di strada. Alla romanella il tempo e Sallusti lo hanno pizzicato e ne hanno parlato a lungo sui loro giornali. Altra cosa divertente, si fa per dire, è il fatto di far aspettare un'ora al Papa. Oggi non mi sembra che i giornali ne trattino a sufficienza, ma comunque uno la veda e far aspettare 70 minuti di ritardo il Papa è una cosa incredibile. Terza questione, secondo me allucinante, è questa idea dei giornali di dover per forza sforzarsi a raccontare la cafonata dei menù di questi pranzi ufficiali. Mai che ti fanno, arriva Putin e che fai, magari gli fai mangiare, non so, gli spaghetti alla matriciana, gli fai mangiare una carbonara. No, le mezze troffiette con il flon, ma andate a quel paese, no? E questa idea del racconto da parte di noi, quattro cafoni giornalisti, che l'ultima volta abbiamo mangiato una cosa decente da McDonald's, beh, insomma, dei menù presidenziali ha un sapore di ridicolo passato, come possiamo dire, inseguimento di robe che possiamo soltanto sognarci. A me mi viene da ridere quando raccontiamo questi menù assurdi. Cosa c'era? Aspetta, ve lo dico, la cafonata. Le mezze manichette con una specie di soufflé di gambero rosso, ma andate a quel paese e mangiate tricolore. Poi dopo invece andiamo sulle cose serie, forse l'interpretazione migliore oggi la dà Alessandro Rossini sul Messaggero, in cui dice che Putin ha, nell'Italia, forse il maggior alleato in Europa, e per questo la sfrutta, da una parte cerca di dare qualche aiuto all'Italia, vedremo sulla Libia dove sta con il generale Haftar, che non è esattamente quello appoggiato dagli italiani, dall'altra cerca di fare un percorso in Europa proprio con l'Italia per evitare che le sanzioni continuino a fargli del male. 30 auto di scorta, incontra il cavaliere alla fine della giornata, che considera Putin un leader mondiale. Non è che lo dice tanto per caso, ma perché fu a pratica di mare che Berlusconi mise insieme Bush e Putin con quella famosa stretta di mano che oggi sembra invece un po' più difficile da realizzarsi con Trump, lo stesso Putin. Altre questioni clamorose sono quelle del CSM, e questa l'avevamo un po' intuita. Nel CSM c'è, ammettono, una specie di microchip nel cervello di Palamara e per 29 giorni ascoltano tutto quello che fa. Non riesco a capire come sia possibile che il procuratore generale, membro di diritto del Consiglio Superiore della Magistratura, che sapeva di essersi visto con Palamara e di aver detto a Palamara che cosa gli stava succedendo a Perugia, cioè un'indagine, non riesco a capire come questo signor procuratore generale potesse pensare di scamparla, posto che tutti quelli che hanno visto Palamara sono stati infettati da questa malattia, cioè tutto quello che gli hanno detto è finito sui giornali. Il procuratore generale pensava di no, tant'è che fa un'azione disciplinare, perché lui è titolare, è il terzo magistrato più importante d'Italia, ed è il titolare dell'azione disciplinare contro i magistrati. Bene, questo signor Fuzio fa un'azione disciplinare contro tutti i magistrati che hanno visto Palamara, ma non se stesso, pur sapendo lui che aveva visto Palamara. Ovviamente i giornali ci vanno a nozze, pubblicano le intercettazioni su questo incontro tra il procuratore generale Palamara e il procuratore dice ah, mi si è presentato sotto casa, eh, ho capito, però gli ha raccontato che c'era un'inchiesta a Perugia, beh, insomma, questo procuratore generale alla fine si incontra con Mattarella ed essendo un magistrato così importante si deve dimettere, cosa che è avvenuta come avviene in Italia, cioè non si dimette, ma va in pensione anticipata, ha 69 anni, quindi si porta a casa la pensione e finisce non nell'ignominia in cui sarebbe finito qualsiasi altro povero Cristo che fosse caduto in una immagine di questo tipo. Una cosa fantastica è che poi aumentano le accuse nei confronti di Palamara. Un'altra delle accuse, secondo la procura di Perugia, che indaga sui magistrati di Roma, è che Palamara avrebbe fatto pagare all'imprenditore amico suo Centofanti, peraltro imprenditore amico anche del procuratore di Perugia che sta indagando su Palamara. Vi è chiaro? Centofanti è un imprenditore che è amico del procuratore di Perugia e il procuratore di Perugia indaga su Palamara. E su che cosa indaga? Su un'eventuale corruzione che gli avrebbe fatto l'amico Centofanti sia del procuratore che indaga sia di Palamara che è accusato. Se vi siete persi non vi preoccupate perché solo in Italia può venire una cosa di questo tipo. E perché oggi sta arrivando una nuova indagine? Perché Palamara avrebbe utilizzato Centofanti per pagare 40.000 euro di ristrutturazione della casa della sua amante. E questa ristrutturazione della casa della sua amante peraltro sarebbe stata fatta non solo con i soldi di Centofanti ma con una ditta che stava ristrutturando il Tribunale di Roma. Ragazzi, è una cosa che... Cioè, è una cosa allucinante! Io non so se sia vero. Palamara ha interrogato, dice non è vero, io ho chiesto al Centofanti che gli desse una mano così come io ogni tanto gli davo 500-1000 euro a questa mia amante per mettere a posto le cose a casa. Potrebbe darsi, non lo so. La cosa più importante delle intercettazioni oggi non è tanto questo sottobosco romano, diamanti, 500 euro dati a nero. Non è questo il punto. Il punto fondamentale è che la verità trova oggi nelle intercettazioni una dichiarazione di Palamara che è fantastica e dice non mi ricordo a chi dice è ovvio che dovevo attaccare il Cavaliere non potevo non attaccare il Cavaliere provengo da quella grande tradizione della magistratura e da Cascini in poi per cui il Cavaliere è il nemico numero uno della magistratura. Altro che politicizzati Gianluca sono questi magistrati sono diciamo lo specchio più che del paese dei politici che loro stessi ingannano. Nel frattempo non riesco a darvi neanche il senso di quello che avviene nelle ONG perché si continua a fare una battaglia su queste ONG arrivano o non arrivano ma la cosa più ridicola incredibile di oggi è la lettera di Matteo Renzi alla Repubblica che completamente abbraccia Matteo Renzi io se fossi Renzi stare attento perché è già beccato una batosta che è il referendum l'abbraccio di Repubblica è la seconda batosta che rischia di prendere e il titolo di Repubblica è io accuso il PD ma come accusi il PD? sei stato il segretario e il PD dice non abbiamo fatto abbastanza per lo Iussoli complimenti se facevate ancora di più sullo Iussoli è altro che il 20% è arrivato al 10% sull'immigrazione l'abbiamo fatto abbastanza ma tu dovevi allora non ha capito niente Renzi ne parlavo l'altro giorno con un suo assessore diciamo di anima democristiana se Renzi continua a pensare che sull'immigrazione c'ha ragione lui e c'è torto la gente se pensa che le sue foto con Obama sono quelle che gli portano soldi scusatemi soldi gli portano popolarità e voti sbaglia di grosso io penso che non sia questo quello che la gente sta chiedendo poi voglio dire facesse la sua campagna elettorale dicesse quello che vuole a me interessa poco ma si può contestare almeno che quando Renzi dice i populisti hanno vinto con le fake news e allora quello che ci ha raccontato lui durante tutto il suo governo era proprio limpido non c'era nessun orientamento politico era tutto corretto ci ha spiegato quando andava la Casa Bianca che era tutto perfetto con la sindaca dell'accoglienza con il medico dell'accoglienza con Benigni è quella l'Italia vera non quella vera è quella della gente che non ne può più di questa situazione e vogliamo il Renzi che va alla Casa Bianca o qualcuno che si rende conto di quello che avveniva nelle periferie altro che Iussoli quando governava Renzi ma non lo so se lui pensa che questa sia la linea ben per lui e soprattutto ben per chi come me non è di sinistra ehm dovevamo mettere la fiducia sullo Iussoli ecco la fiducia sullo Iussoli ci mancava anche questo lettera oggi sulla Repubblica che dà il senso di come probabilmente il PD proprio non sa dove andare a finire ma devo dire purtroppo lo dico con con ramarico mi sembra che anche Forza Italia non sa bene dove debba andare a finire e oggi mi sembra che sia il Corriere della Sera che dice che si va verso la scissione scindere l'atomo non è facile io vengo da un partito diciamo di amore che era quello liberale che era il 2-3% e era diviso in 20 correnti e devo dire che era imbarazzante ecco se questa è la fine che vuol fare Forza Italia me ne dispiaccio perché insomma è evidente che ci vuole un centro moderato liberale più che moderato liberale in questo paese e se questi si dividono tra Calfagna che pensa a fare la green tra Toti che fa il suo convegno ma poi dopo non viene invitato neanche alla riunione dei coordinatori beh obiettivamente quello è un bel pasticcio non che la cosa stiano meglio in un partito monolitico come quello della Lega e di Salvini dove c'è Salvini che governa c'è diciamo il vento in poppa però insomma sull'Europa hanno buon conto oggi tutti i giornali a dire che non ne hanno azzeccata una sono riusciti a fare vicepresidente del Parlamento Europeo un deputato del Movimento 5 Stelle quindi presidente uno del PD vicepresidente europeo un deputato del Movimento 5 Stelle quando le elezioni europee sono vinte dalla Lega e mi chiedo e vi chiedo quando Salvini si arrabbia con Forza Italia che vota questo del Movimento 5 Stelle mi chiedo ma con chi con chi sono alleati la Lega con Babbo Natale o loro con il Movimento 5 Stelle mi preoccuperei per l'incapacità tattica e politica di questa Lega all'interno del Parlamento Europeo e dell'Europa di portare a casa qualche risultato anche queste vicende che stiamo leggendo di possibili commissari europei moavero siniscalco beh insomma se la Lega veramente perde il commissario europeo e non prende un bel pacchetto importante di deleghe con un uomo dal vero della Lega viene abbastanza da ridere insomma mi verrebbe abbastanza da ridere e oggi sui giornali quindi c'è questa crisi da una parte di Forza Italia come partito e dall'altra come Lega che non riesce ad avere un ruolo in Europa diciamo in quello che oggi conta cioè le poltrone mi sembra molto interessante su Ursula la nuova Presidente della Commissione Europea anche un articolo molto divertente del Corriere della Repubblica dice come i tedeschi sono arrabbiatissimi per la nomina di questa Ursula perché non gli è piaciuto ovviamente i socialdemocratici ultima cosa molto divertente è il Cazzaro Verde ed è il soprannome che ha dato il fatto di travaglio a Salvini bene Salvini che viene accusato di usare un linguaggio da fascista da cattivone da beh insomma è possibile dargli del Cazzaro Verde perché Salvini querela il fatto quotidiano e oggi il fatto quotidiano ci spiega che il giudice dà ragione appunto a travaglio ed è legittimo chiamare il leader della Lega vicepresidente del Consiglio ministro degli interni Cazzaro Verde così come il foglio oggi lo chiama truce da mesi così il fatto lo chiama il Cazzaro Verde insomma a parte la diversa eleganza il concetto molto semplice è che noi abbiamo ministro degli interni a cui non si perdona nulla non gli si perdonava la felpa non gli si perdonava il linguaggio eccetera e i giornalisti chic ed eleganti possono con il timbro della magistratura dargli del Cazzaro o del truce per me va benissimo perché nella nostra libertà poter dare agli altri diciamo degli epiteti che poi qualificano la volgarità di chi gli ridà più o meno ma il punto fondamentale è che nell'imbarbarimento in queste grandi tese dell'imbarbarimento del linguaggio insomma qua mi sembra che nessuno possa dare lezioni direi che per oggi è tutto io vi segnalo che tra poco uscirà sul mio sito un pezzo incredibilmente chiaro di Antonio Pilati e lo troverete dopo questa zuppa intorno a mezzogiorno sul fatto che ci sono tre fake news sull'Europa e soprattutto su quello che vuol dire per l'Italia l'Europa è un pezzo tutto da leggere io l'ho già letto tra poco lo vedrete sul sito a mezzogiorno ciao